buongiorno, buongiorno, ahia, dici che è successo? vi devo dare una tutta notizia, noi da qua ce ne dobbiamo andare, perché? perché ho appena saputo che il portinai di giù si è fatto tutte le donne del palazzo tranne una quella? ah sì, quel del quinto piano? quello del quinto piano? Grazie a tutti.